A Florinas torna la beneficenza. Ancora protagonista il club Fiat 500 del comune a 20 km da Sassari, che ieri ha donato strumenti musicali, montascale, proiettori e una lavatrice ai bambini con la sindrome di Down e alle persone affette da disabilità. A rendere possibili i contributi il ricavato ottenuto dai calendari realizzati lo scorso settembre proprio con i piccoli. I cittadini hanno risposto nonostante la pandemia, con pochi soldi, ma siamo riusciti a fare con pochi soldi una grande donazione alle due associazioni che oggi sono presenti qua. Per noi questo è un grande motivo di vanto. Direi che è stata magnifica perché abbiamo avuto a che fare con dei bambini speciali. È tutto detto perché è stata una cosa bellissima. A ricevere la donazione due associazioni sassaresi, strada facendo e incontro corrente, impegnate da tempo in progetti di inclusione sociale. Le associazioni serviranno per poter nel futuro istituire delle classi di musicoterapia, oltre che comunque dare sfogo a dei ragazzi in varie situazioni che si verranno a creare quando finalmente riusciremo ad avere una sede. Noi lavoriamo sulle autonomie personali dei ragazzi che frequentano le nostre attività e desideriamo che queste possano essere implementate nel tempo. Anche l'amministrazione comunale del Paese ha contribuito all'iniziativa.